Allora, guardiamo, Bedrivers of Italy, voglio vedere cosa è successo. Quante Audi o BMW? Anzi, no, quanti pedoni che rischiano di essere investiti? Almeno uno ci sarà. Ma che cazzo fai? Ma sei deficiente? I cui primi vapori si innalzavano nell'aria. Ma... Non sapevo cosa dire. Ciao. Bitonto! Io camminavo qui. Non ho capito però. No, porca troia, no, no, no. Minchè, lì era nel culo, però cazzo, quello ovviamente non ha visto. Però anche lui che cazzo fa? Va avanti e poi frena di colpo? E se c'era qualcuno che stava attraversando la sala l'avrebbe investito? No. Inadeguatezza, il complice di un'illuminazione generale vieda agli states... E in quel caso cosa succede? Di paghi danni alla moto? ...e alla NATO, il pretesto per scavalcare l'ONU e lanciare l'offensiva finale. Dio mio... Oh oh, oh no, 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 no. Oh no! E manco frena, cioè rallenta. Va bene, ormai niente più strano. Ma che cazzo fai, coglione? Coglione! Ma che cazzo fai, coglione? Ma è stupido? Perché faccio queste domande? È stupido. Anche lui? Ma che dove cazzo crede di essere, raga? Ma come cazzo guidano? Ma come cazzo guidano? Che cazzo vuol? Eh, quello dietro con la roulotte. Porca puttana. Eh! Porca puttana. Ti ho preso. Questo lo manda allo scapi. E fanno passare, figa, dai. Sì, allora, effettivamente è un po' in mezzo anche con il... No, però, dai, figa, ma non mettiti che fai queste cose dietro. Camerista. Ma l'L cosa significa sul camion? Che grandissimo filo di puttana, però. Cosa, lo bloccano ad essere lì così? Si è rimesso davanti. Oh, va, si è fermato, si è fermato. E quindi cosa voglio ottenere facendo una cosa del genere? Vabbè. Sorpasso inutile, vi è andata più svolta senza frecce e ti rincorro perché sono stupido. Vabbè, gente stupida. Ma si sapeva. Oh, oh. Ma Dio mio, come far rischiare di far ribaltare un pull, ma magari pieno di gente. Cagliari. Che cazzo è quella roba là sopra? Che cazzo, cosa sta... Cosa sta trasportando? Stupirla. Ah, è Google Maps. Vabbè. Oddio mio. Ok. Ma non c'è un cazzo tipo di Brescia? Dai, raga. Guido era piuttosto bene a Brescia allora, non è vero. Non l'ha vista? Impossibile. Non l'ha guardato. Boh, ok. Va bene. Questo che sarebbe? Barcheggio? Ma? Portacci tua. La porca puttana. Hm. Sempre Roma? Quante robe. Che succedono a Roma? Frusinone. Ma questo cosa sta facendo esattamente? Ma che cazzo fai? È stupido. Sì. È stupido. Ma che cazzo? Lago di Ledro? Che brutto nome. Ha fatto un incidente. Amma mia, però, te l'hai presa giusta la porca. Ma che corrono come dei pazzi qui. Ma cosa stavamo guardando sotto? Qualcuno si è lanciato di sotto. Figa, pensa a guidare a Roma, esatto. Milano, Roma, quelle grandi città. Qualcuno sono tutte stressate e schizzate. Vabbè, è deficiente, veramente. Testa di cazzo. Già, guarda che temporale sta arrivando là. Non possono passare. Non possono passare. Bologna. Vabbè, ok. È sceso? Dove sta andando? Che cazzo è successo? Si è offeso per il colpo di clacson. Come fai a non picchiare a sta gente? Dimmi dove trovi la forza nel non picchiarli. Mai scendere e chiamare il 112 se necessario. Ma lui cosa? Mi viene da bestemmiare e non bestemmi. Non solo. Eh! Dove se n'è andata? Che stronzo, se n'è andata? Che cazzo è sta roba diceva il tuo nome, vuole? DJ di Twitch? Ma che cazzo? Che vuol dire? Ma che vuol dire la ragazza? No, è chi? Non ho capito cosa ha detto. Ha parlato una lingua strana. Sono molto efficiente. Tutto le efficiente. Vabbè, sì. Non fate però. Quanto è che qualcuno di voi non è. Questo è una cosa che... Carbonara. Buona. Vabbè, ok. Bravo. Guardali, guardali come cazzo guidano. Sapevo che ce ne sarebbe stato almeno uno. Io credo che il karma effettivamente esista, raga, nel mondo. Che è una cosa... Non nel mondo, ma esiste come cosa. E un giorno verranno ripagati. Cioè, più che ripagati, tornerà indietro in una maniera pesante. Tornerà indietro in una maniera pesante. Io ci credo. Anzi, lo so. È così. Stupido. Non guarda neanche. Porca... Io non ho le forze per incazzarmi. Però... La testa sul volante gliela sbatterei. Sei stronta. Un milione di merda. Ingame. Hashtag adugativo. Napoli! Adekisoa. 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 Mi lo manda pure. Affanculo. C'è rispo. C'è rispo. Avete visto com'è passato, raga? Ma che cazzo fanno Foggia? Ma poi è così veloce? Vabbè... Tampuno era anche da fermi. Ok, che ho sbagliato leggermente la strada. Ma giusto un attimo. Vabbè... Vabbè... Dopo che fai la stanzetta puoi avere anche ragione alla cosa che dà più fastidio. Vero, vero? Mi ricorda qualcosa questa scena. Dovrebbe essere una catapulta. Ho capito se è una frana. Questa è la roba che ci ha fatto vedere il muso l'altra sera. Vabbè, ok. Doppio POV. Calate le camere di dietro, oggi prendo è meglio rispetto a quella di davanti. Cioè, la qualità è migliore. Eh, aveva fretta. Oddio. Mamma mia, quant'acqua. No, le mucche. Finito. Micchia, roba allucinante come sempre. Un pedone rischiava di essere investito comunque, sempre sì. Quello non può mancare. Un pedone rischiava di essere investito.